Nuovo appuntamento con lo speciale Crona Caghetina, ritroviamo Gabriele Veneri. Ciao Gabriele, bentornato tra noi. Ciao, grazie. Allora, siamo venuti a trovarti nella tua azienda, la Semmar, perché Gabriele Veneri, tra qualche giorno, è il nuovo presidente degli orafi di CNA. Quindi, un bel incarico, una bella responsabilità. Sì, è una responsabilità che mi sono accollato con passione, come faccio tutte le cose. Ci sarà molto da lavorare, perché i problemi sono molti da risolvere, però credo che riusciremo a essere un bel gruppo unito. I programmi saranno condivisi da tutti e quindi credo che ci sia tanto da fare. Che momento è per questo settore? Si leggono dati a volte un po' così altalenanti? Qual è la fotografia che ti senti di fare? Io sono un artigiano e parlo con gli artigiani. E credo che il momento sia uno dei momenti peggiori nella storia, diciamo, delle nostre aziende. Risente dei problemi economici che ci sono un po' in tutto il mondo. E il mercato in questo momento è veramente in un periodo di stallo. Però di buono c'è che noi siamo un comparto orafo molto forte, che abbiamo tante eccellenze. I nostri artigiani sono, secondo me, fra i più bravi del mondo e le nostre aziende sono fortemente strutturate. Quindi si tratta probabilmente di fare il focus su mercati diversi e su strategie diverse. E credo che ci possano essere delle buone opportunità. A livello di strategia, questa unione con Vicenza, che ne pensi? Anche di questo io devo ancora venire nella conoscenza dei tecnicismi, perché tu sai che io sono stato eletto il 13 e quindi sono passati pochi giorni. Mi sto focalizzando su argomenti che mi sono molto cari e vicini. Quello di Vicenza io entro in merito a una cosa alla quale non ho partecipato, alla quale io fra l'altro sono anche fuori dalla fiera di Vicenza, quindi è un argomento che in questo momento non ho affrontato. I giochi ormai sono fatti e spero che tutte le strategie che sono state fatte siano state fatte per il bene della nostra fiera e per il bene della nostra città. Non ne sono ancora entrato, diciamo, nello specifico. Appena avrò capito tutte le dinamiche potrò darti un giudizio di quello che ne penso. Con la vicenda di Banca Etrugia quanto influisce? Sicuramente nel territorio abbiamo bisogno di una banca che sostenga le imprese, perché oggi le imprese, una banca pigia un bottone, vede il rating e con quello ti danno degli affidamenti. Sicuramente c'è bisogno della banca del territorio che capisca e che conosca i problemi degli orafi e che conosca soprattutto gli orafi, quello che hanno fatto negli ultimi 30, 40, 50 anni. Chi sono le persone? Gli orafi sono persone serie, nella maggior parte dei casi, imprenditori che hanno fatto sì che questa città negli ultimi 50 anni, insieme a poche altre cose, diventassero un'eccellenza e conosciuta in tutto il mondo. Quindi credo che se in questo momento c'è bisogno di credito, dobbiamo avere qualcuno che abbia un occhio di riguardo particolare per la nostra categoria. È chiaro che se si va a chiedere bisogna che ci siano probabilmente dei business plan, ci deve essere anche una cultura e una formazione per chiedere. Non si chiede a priori e non si ottiene a priori. Dalla nuova banca e truca sembrano arrivare segnali, almeno in quello che comunicano, proprio di un accesso al credito che sembra abbastanza privilegiato anche per le imprese orafi. Hai questo sentore? Ti ripeto, ancora non è che ho approfondito questo argomento. Benvenga, perché purtroppo la situazione attuale è che molte aziende hanno prodotto ma non sono riuscite a consegnare il prodotto. Quindi nel nostro lavoro se non hai materia prima non riesci a lavorare. La nostra materia prima è molto costosa, quindi c'è bisogno di una finanza che giri molto bene e molto velocemente. Quindi benvengano. Tra i progetti che insomma da anni se ne parla di questo Museo dell'Oro, che importanza può avere con la sua concretizzazione? Secondo me il progetto del Museo dell'Oro è una cosa stupenda. Io personalmente quando giro il mondo se trovo un museo dell'Oro lo vado a vedere e mi sembra strano che ancora Arezzo, la città dell'Oro, la capitale dell'Oro italiana perché per i numeri noi siamo quelli che abbiamo e più tradizione e più produttività. Quindi mi sembra strano che ancora non l'abbiano fatto. Ho capito che c'è grande voglia e grande fermento. Penso che questo porti sicuramente del bene e dei vantaggi alla nostra città. Qualcosa al di là di Vicenza, qualcosa forse da rivedere anche su Arezzo Fiere in quanto tale, nel senso che sai che c'è un po' di polemica anche su chi deve gestirlo, sulla proprietà, su quali eventi portarci. Tu come lo vedi Arezzo Fiere? Come dovrebbe essere nella tua visione? Io l'ho sempre vista come il salotto dell'oreficeria. Ho sempre partecipato con grande orgoglio e con grande senso di appartenenza. Spero che nella prossima edizione sarà un'occasione non solo per mostrare un bel salotto ma per fare business perché noi oggi non abbiamo bisogno di fantasia, abbiamo bisogno di fatti e di concretezza perché i nostri costi aziendali, delle nostre aziende sono fissi e ci sono tutti i mesi. Quindi credo che sia finito il momento di farsi vedere più belli di quelli che siamo. Quindi mi auguro che la fiera che è cresciuta e che è più bella porti anche la concretezza che tutti si aspettano. È forse anche un modo per spiegare a chi ci segue che magari vede sempre questi stand e si chiedono ma alla fine che cosa fanno in questi giorni le aziende. È un modo per stringere accordi, per portare a casa qualche ordine. Ultimamente com'è andata? Allora, anni fa, ma parlare di passato nel mondo dell'impresa, credo che sia come leggere un fotoromanzo o un romanzo, aveva sempre un lieto fine. Tu partecipavi a tre o quattro fiere all'anno, avevi il lavoro per tutto l'anno. Oggi purtroppo durante le fiere non si fanno più dei business come una volta che ti permettevano di avere un tempo lungo di lavoro. Oggi principalmente si mostrano i nuovi prodotti e è un modo per incontrare una clientela internazionale che si vede in certe occasioni, quindi durante le fiere, per parlare di nuove idee, magari da condividere. E' chiaro che i costi anche di partecipazione alle fiere sono molto alti, quindi ci deve essere un equilibrio. Spero che si possano fare dei buoni business, perché come ti ho detto prima, tutta la categoria ne ha bisogno. Ecco, purtroppo negli ultimi mesi c'è ritornato il problema della sicurezza, perché dopo un periodo abbastanza tranquillo, negli ultimi mesi ci sono state rapine, di nuovo furti, eccetera. Sei preoccupato anche da questo ritorno, dopo il famoso periodo di quella serie di colpi, poi grazie anche alle forze dell'ordine, la situazione era tornata in un alveo di normalità. Che momento è sotto questo punto di vista? Io sono preoccupato, però non sono più preoccupato di prima o meno preoccupato di prima. La nostra città ha bisogno di una sicurezza particolare, di una sicurezza speciale, e credo che questo problema non spetti a noi risolverlo, ma spetti agli organi competenti. Trovo che forse sia stato preso con un po' troppa di superficialità, e credo che se è stato preso con superficialità ci debbano essere degli interventi concreti. Se ci sono tre macchine e tre macchine non sono sufficienti, ce ne devono essere sei o otto o dieci. Però credo che non sia giusto lasciarci in queste condizioni. Questa è proprio una cosa che mi fa soffrire, perché ho visitato personalmente l'amico che collega, che ha avuto questi problemi ultimamente, e ti posso assicurare che non è una cosa piacevole. Finché uno non vede, non crede. È polso fasciato, timpano rotto, collare al collo, malmenato. Credo che uno che distribuisce ricchezza nel territorio, e che paga le tasse, e che si sacrifica nella propria azienda, per un bene comunque sì personale, ma anche comune, debba essere tutelato in maniera differente. Invece credo che ci sia una superficialità in questo, che non credo che se la possano più permettere, perché non ce lo meritiamo. Perché gente, sono bande poi molto organizzate, che conoscono nel dettaglio i vostri movimenti, non è che sono i classici ladruncoli, no? Io non lo so chi sono, perché ti ripeto, io mi devo impegnare in quello che è la mia azienda, in quello che è la mia missione. Questa è una missione di altri. La sicurezza ci devono pensare i nostri amministratori, e coloro che appunto sono gli organi preposti a fare questo. Non è una mia competenza e non la voglio nemmeno avere. La lascio a loro, però che la facciano. Che la facciano. Un'ultima domanda, quanto è difficile continuare non solo a fare impresa, ma anche a dare lavoro, perché voi fate anche e soprattutto questo? È difficilissimo, perché noi siamo i precari. Noi siamo i precari. Il precariato primo, secondo me, è l'azienda, l'imprenditore, l'artigiano. Perché alle volte capita di sentire gente che dice io questo mese ce l'ho fatta a pagare tutti gli stipendi, ma io non l'ho preso lo stipendio. Credo che ci sia un po', forse anche uno sbilanciamento in questo momento. Ben vengano i diritti e ben vengano le condizioni che siamo riusciti a conquistare negli anni. Però credo che in Italia ci sia il costo del lavoro troppo alto, nonostante che i nostri collaboratori siano probabilmente quelli che hanno il minor potere d'acquisto, forse in Europa, perché oggi un dipendente che prende uno stipendio medio probabilmente ha difficoltà a arrivare in fondo al mese. Però per l'azienda è un costo altissimo. Quindi credo che magari si devono riequilibrare queste cose. Non che l'azienda paghi di meno, ok? Però perlomeno che abbia una capacità d'acquisto maggiore, che viva meglio, che faccia il proprio lavoro con più serenità e che magari anche lui abbia la possibilità di condividere le proprie ricchezze, di spendere e di avere un po' di soddisfazione. Credo che forse più che l'articolo 18 il problema è abbassare questo costo del lavoro, no? Più che quello, no? Il costo del lavoro ci rende fuori da ogni competizione. Ci rende fuori da ogni competizione e più che altro abbiamo i dipendenti e i collaboratori che sono tutti scontenti e con difficoltà arrivano alla fine del mese. Questa è la realtà. Poi quello che ci raccontano, per me quello è un altro film. Io parlo con i miei ragazzi e parlo con i miei colleghi e la storia è questa. Questa è la realtà.